Signore e signori buonasera, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento settimanale. Stasera parliamo di un argomento molto interessante, perché? Perché è molto diffuso nella popolazione la presenza dell'ernia iatale, con o senza reflusso gastroesofageo. Questo è l'argomento della serata. Tanto per darvi come al solito dei numeri, un italiano su dieci ne soffre. E ancora, quasi tutti gli anziani hanno problemi di questo tipo. Attenzione, cosa si intende perernia? Allora, il diaframma, che è il muscolo che divide il torace dall'addome, contiene delle aperture, si chiama iatus. Attraverso queste aperture passano determinati organi se questa apertura non è continente. Cioè dire, se noi abbiamo lo stomaco in sede e il diaframma normale non succede niente. Se lo stomaco invece trova un'apertura nel diaframma patologica, patologicamente alterata, allora può risalire verso l'alto, risalire verso il torace. Ecco perché si chiama ernia e iatale perché iatus è il nome di questa apertura. Le cause, ma le cause possono essere addirittura congenite, traumatiche, dietetiche, ma per lo più la vera causa dell'ernia e iatale è poco conosciuta, per non dire sconosciuta. La maggioranza di esse, 90-95%, si chiamano da scivolamento, cioè scivolano proprio da una sede all'altra. attenzione, sintomi? Ahimè, l'ernia e iatale di per sé non dà sintomi, o se dà sintomi sono sintomi di difficile interpretazione, non specifici. Mentre invece, ed ecco qui che completiamo il discorso che avevamo introdotto, se ci fosse reflusso, quindi ritorno di materiale acido dallo stomaco verso l'alto, attraverso l'esofago fino alla gola. Questa malattia da reflusso gastroesofagea, così è la dizione esatta, GERD nelle sigle che troviamo scritto nei certificati medici, invece sintomi ne dà e come, perché? Perché l'esofago non ha una parete che è capace di tollerare l'acido, non è fatta per quello. Quindi se arriva acido dallo stomaco, il contenuto gastrico è acido per definizione, noi avremo dei bruciori, bruciori esofagei talmente intensi e qualche volta protratti, che possono addirittura far pensare a un infarto, a una patologia delle coronarie. Quindi diagnosi differenziale sempre fra una sintomatologia a dare flusso e l'eventualità di una patologia coronarica. Ancora altri sintomi, oltre al bruciore, al dolore retrosternale, sassietà post-prandiale, ci si riempie subito. Ancora eruttazioni post-prandiali, senso di gonfiore come se fosse mangiato chissà che cosa, invece abbiamo fatto un pasto assolutamente rurale. Questo naturalmente dipenderà anche da cosa abbiamo mangiato e negli prossimi incontri parleremo non solo della terapia medica, ma anche della terapia dietetica, cioè dire dei consigli dietetici per cercare di limitare il danno. Come si fa la diagnosi? Beh, si può fare anche con una radiografia sempre meno utilizzata, soprattutto oggi che le gastroscopie, per merito di una tecnologia avanzata, sono veramente ben tollerate e è possibile farli in chiunque, dai bambini fino agli anziani. Naturalmente facendo la gastroscopia noi non ci limiteremo solo a verificare se c'è l'ernia iatale, ma verificheremo se c'è l'ernia iatale, se c'è reflusso e se eventualmente il reflusso ha condizionato delle alterazioni in esofago, esofagiti, come dicevamo prima, legati all'acido che è ritornato verso l'alto. Questo acido che ritorna verso l'alto può essere apprezzato soggettivamente anche come una irritazione in gola, come se si avesse un corpo estraneo, quindi i sintomi qualche volta sono tali che il soggetto finisce dall'otorino a la ringoiatra, che poi lui stesso con un'appropriata visita orienterà il soggetto verso eventualmente il proprio medico o il gastroenterologo. Una volta stabilita la diagnosi dobbiamo passare alla terapia, terapia che sarà farmacologica con l'utilizzo di farmaci in cui parleremo in un prossimo incontro, ma, e questa è molto trascurata dietetica. Ci sono delle sostanze che il portatore di malattia da reflusso con o senza ernia deve limitare o addirittura non considerare. Ebbene, di questo e di altro parleremo nei prossimi incontri. Grazie, buonasera.